Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di oggi, fine febbraio, 28 febbraio. Quali sono le notizie fondamentali della giornata? Ma innanzitutto direi quelle politiche, e cioè oggi il tema per cui si dividono Movimento 5 Stelle e Lega, secondo le interviste, secondo i titoli dei giornali, sarebbe le autonomie. Oggi il Corriere della Sera, con una sontuosa intervista al Ministro dell'Autonomia, abbiamo anche un Ministro delle Regioni, la Stefani, peraltro abbiamo anche un Ministro inutile del Sud come la Lezzi, beh, insomma, dice la Ministra Stefani che Di Maio sa che le autonomie sono nel contratto, però poi dopo se leggiamo Repubblica, dove Di Maio fa un'intervista, Di Maio su Repubblica dice una cosa molto diversa, noi sosteniamo l'autonomia, dice Di Maio, ma non lo spacca Italia! Così sarebbe considerata la legge sull'autonomia che sta provando a portare avanti questo governo. Ieri ci sarebbe stato un vertice, evidentemente non è andato così bene. Nelle more della politica, a parte ovviamente la questione della TAV, che da Tria in poi continua a essere uno degli elementi fondamentali, in cui per l'ennesima volta oggi, sia sul Messaggero, sia sulla Repubblica, Di Maio dice no alla TAV, sì invece a tutti gli altri cantieri, ciao mamma, nel senso che in realtà non sono ancora partiti gli altri cantieri, stanno facendo l'analisi costi-benefici, Torinelli, il suo vicino di banco e di partito lo sta facendo anche sulla bretella di Sassuolo, quindi non mi sembra quella la TAV Torino-Lione, ma stanno bloccando con dell'orco la Sassuolo, la bretella autostradale, approvata da sempre, quindi insomma non diciamo balle, speriamo che sia così. Ma nelle more di tutto ciò c'è un'indiscrezione interessante oggi della stampa, che dà il senso del calore politico di queste ore, perché Salvini avrebbe chiamato Berlusconi rassicurandoli che non avrebbe mai detto di non tornare mai più con lui. Bah, vediamo. Oggi sulla politica vi segnalo anche un'altra questione, anche se marginale, perché è una cosa importante per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è la legge potrebbe dividerli, cioè la legittima difesa, e cioè Filippo Facci sul Libero che ci racconta come il capo dei magistrati, cioè dell'ANM, ha detto che la legittima difesa è una legge che non si deve fare, che è del tutto inutile, e fa, ci si chiede, questo è il ruolo del capo dell'ANM, cioè spiegare alla politica cosa fare e cosa non fare, insomma la separazione dei poteri vorrebbe maggiore prudenza. Su Trump oggi dovrebbe essere una giornata storica, ma eppure i giornali italiani si divertono, ma non solo quelli italiani, anche quelli americani, per l'odiato Trump che per la prima volta, il pagliaccio di Trump, riesce a fare un incontro con, a da noi, tra l'altro non in Corea del Sud, in Corea del Nord, ma in Corea del Sud, col dittatore Kim Jong, Trump, beh, insomma, rompe quell'assedio nucleare che partiva da anni, quella minaccia nucleare che partiva da anni, magari non se ne farà nulla, ma comunque si stringono la mano, ma il problema è che il suo avvocato Cohen, oggi in tribunale, viene ricordato da tutti quanti i giornali, dice che è un razzista, un truffatore, un bugiardo, e un delinquente, questo è il presidente Trump, da parte del suo ex avvocato. Devo dire che però la stretta di mano storica con in Corea del Sud ci ricorda che sarà pure tutte le cose che dice Cohen, ma non è certamente quel buffone che tutti quanti hanno raccontato in politica estera e ha fatto molto meglio, direi, dei suoi predecessori. Il mattino ci ricorda una cosa che io non ho visto da nessuna parte, se non nell'apertura del mattino, è che ci sarebbe un disegno di legge, affirma Movimento 5 Stelle, che direbbe che alcune case abusive, invece di buttarle giù, come è normale, in un paese civile, bisognerebbe semplicemente alzarne le multe e quindi per sanarle. Questo è il titolo del mattino, un disegno di legge che avrebbe presentato il Movimento 5 Stelle. La cosa più bella di tutte è la storia della Sarti, che è una cosa scandalosa, non è scandalosa come risponde oggi in un'intervista di Maio per il semplice fatto a noi siamo diversi dagli altri perché quando li becchiamo poi li cacciamo, perché lei in realtà si è autosospesa, poi dopo sarà pure cacciata, ma la cosa incredibile è che la Sarti che cosa ha fatto? Intanto faceva i bonifici e poi li ritirava, lo faceva con la complicità del suo fidanzato, poi ha detto che questa roba qui invece dipendeva solo dal suo fidanzato e denuncia il suo fidanzato per appropriazione indebita, dice che l'ha consigliato Rocco Casalino, io non ci credo, ma dice che l'ha consigliato Rocco Casalino a farlo, e allora io mi chiedo, lei, la Lezzi, tutte queste che avevano dei problemi diciamo con il Movimento 5 Stelle e lei è andato oltre perché ha fatto una denuncia penale, una falsa denuncia, come se me ne rubano il motorino e dico, me l'hanno, non mi rubano il motorino, è vecchio, è uno scatafascio, dico me l'hanno rubato, ops, e invece lo butto nel burrone per farmi pagare dall'assicurazione. Non si fanno le denunce false? Il punto fondamentale è che questa è presente alla Commissione Giustizia di Maio, lo capisci che c'è una responsabilità politica, porca puttana, cioè prendete i voti, onestà, 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 prendete una che fa i bonifici, 23.000 euro di bonifici, a voi non ve li dà, a me non me ne fotte nulla, e voi che cosa fate? La fate Presidente della Commissione Giustizia, e quando si scopre che quella fa una denuncia falsa, perché lo dicono i magistrati, voi che fate? Ma tanto noi se li mandiamo via le merce marce, ma come? Ma come? L'hai fatta Presidente della Commissione Giustizia? Oggi il fatto è favoloso, il titolo del fatto di oggi, che ci ha fatto due palle così, sull'onestà di tutti, sapete che cosa dice? Fatto, due punti, è l'ex fidanzato che faceva bonifici a spese di lei. Ma che vuol dire? La notizia è una sola, il Presidente della Commissione Giustizia dei Moralisti del Movimento 5 Stelle non faceva i bonifici per restituire i soldi del Movimento 5 Stelle e quando è stata pizzicata dalle Iene, le sacre Iene, beh, quando è stata pizzicata ha denunciato il fidanzato e si è scoperto che era una denuncia falsa. Chissà cosa succederà sulla Lezzi, perché secondo me, ve lo dico, le Iene continuano sulla Lezzi. Veneziani oggi fa un pezzo bellissimo, come spesso avviene a Veneziani, su Politicamente Corretto, da Sanremo agli Oscar a Hollywood. E infine il pezzo che dovete leggere oggi è sul Cardinale Pell, australiano, numero 3 della Chiesa, l'uomo più amato da Bergoglio, Bergoglio, anzi l'aveva portato lui in questo ruolo importante, un conservatore, quindi totalmente diverso a Bergoglio, un conservatore, diciamo, burbero, un uomo di potere, oggi difeso, nonostante il suo arresto per pedofilia, da Giuliano Ferrara. Leggetemi il pezzo, perché Ferrara ogni tanto ritorna a Ferrara, quello che ti piaceva leggere quando eri ragazzino, Ferrara straordinario, Pell come Dreyfus addirittura, come il grande scandalo della fine Ottocento in Francia, in cui l'ufficiale cosmopolita, elitista, dell'élite cosmopolita francese, ebreo, fu incarcerato ingiustamente con frasi, con documentazioni false, perché rappresentava un simbolo. Bene, dice Ferrara, Pell rappresenta il simbolo di una Chiesa che nessuno oggi vuole difendere, ed è un attacco improbabile e sulle quali noi ci dobbiamo tutti quanti opporre. Giuliano Ferrara strepitoso, vi ricorda un po' Dreyfus che non ve lo ricordate, a meno che non vi siate letto un... Vi ricordate quegli accenni della recherche su Suan, che era uno dei pochi che lo difendeva in questi salotti francesi, che invece erano tutti antitrefugisti, tranne il giovane, il giovane stava morendo, Suan, e direi che oggi con questo possiamo concludere. Ciao! Ciao!